siamo di nuovo qui giovedì giovedì 30 aprile la vigilia della festa del lavoro domani domani non andremo in diretta ci ritroviamo sabato oggi vi racconto che prima di tutto siamo in una situazione quasi di emergenza comunicativa non per i dati ma perché non il server della posta elettronica è andato un po in panne e quindi abbiamo fatto comunicazione con mezzi di fortuna per cui oggi anche sul piano dei commenti successivi sarò abbastanza parco quindi vi leggo il comunicato vi leggo colgo le questioni più rilevanti del comunicato e parleremo brevemente di due o tre argomenti e poi dopo ci ci dovremo salutare semplicemente perché c'è questo black out temporaneo con con bologna partiamo dai dati di questa di questa giornata abbiamo dall'inizio dell'epidemia oggi 259 casi nuovi di epidemia di contagio sono complessivamente 25.436 i casi naturalmente dopo vi darò i casi dove si spalmano sul territorio intanto i dati di carattere generale abbiamo quasi 6.000 test effettuati sono 5.992 per un totale che va a 182.857 test effettuati tamponi è un dato molto forte quello delle nuove guarigioni adesso quando vi dirò il numero è quasi incredibile incredibile ma è vero come si dice incredibile ma vero e poi vi spiego anche perché comunque nuove guarigioni che abbiamo verificato rispetto a ieri ma poi vi spiego che è un dato che risente di comunicazioni non andate a buon fine di almeno dieci giorni nuove guarigioni che abbiamo oggi comunicato al ministero sono 2.519 ricorde quelli gli affezionati quelli che hanno visto anche la trasmissione di ieri ricorderanno che su reggio emilia avevo già anticipato pur senza entrare troppo e non lo specifico che cosa si vedeva dai grafici insomma che avevamo un sacco di casi attivi oltre a 3.000 casi attivi da molto tempo e vi avevo anticipato che la verifica di reggio emilia aveva portato a verificare che tra i due sistemi informativi quello di reggio quello della regione insomma c'era stata una mancata comunicazione che è stata rimediata soltanto oggi ma che ci dà questa notizia meravigliosa per la verità paradossale ma comunque il dato sulla nuova guarigioni oggi ci posiziona poi ve la spiego ancora meglio vi leggo il motivo tecnico a 12.322 guarigioni e quindi c'è corrispondentemente un fortissimo calo dei casi attivi cioè dei malati effettivi che oggi sono 2.299 in meno per cui dagli 11.862 ieri oggi siamo a 9.563. Voi capite che questo è un dato di doppia felicità per quanto mi riguarda perché oggi certifichiamo formalmente un sorpasso formidabile tra i guariti che oggi sono in totale 12.300 e i casi attivi che sono 9.500 quindi una differenza fortissima però vera e reale questi dati sono dovuti in particolare al riallineamento dei flussi informatici della usla di reggio emilia con il caricamento dei dati relativi all'ultima settimana quindi 801 pazienti senza sintomi e 1.355 con un doppio tampone negativo quindi stiamo parlando di più di 2.000 casi che certifichiamo oggi in ritardo ma pur sempre vero come guariti e quindi ricepiti oggi per intero dal servizio sanitario regionale del sistema regionale già comunicati al dipartimento della protezione civile. Abbiamo anche considerato naturalmente va considerata l'esecuzione di un numero rilevante di tamponi di controllo e a una popolazione che coincideva temporalmente col picco di fine marzo e con un elevato indice di negativizzazione. Comunque adesso è inutile che io vi stia spiegare tecnicamente questi passaggi sta di fatto che la notizia non è positiva è super positiva quindi va considerato lo dico come cumulativo dell'ultima settimana di rilevazione. Chi di voi avesse voglia di andare a vedere i grafici che ho fatto vedere ieri e anche quello che ho detto in diretta sui grafici farebbe presto fare i conti nel senso che non era neanche plausibile che Reggio Emilia mantenesse tutti quei casi attivi da così tanto tempo e adesso Reggio Emilia come ho detto ieri si riallinea abbastanza vicino a Modena e abbastanza vicino a Parma e quindi questa competizione positiva rispetto al numero dei guariti la torneremo a vedere nei prossimi giorni sicuramente facendo il tifo ognuno per chi vuole il tifo in questo caso è soprattutto per i cittadini che superano la malattia. Le persone che sono in isolamento a casa con sintomi lievi sono complessivamente 6402, molte meno di ieri perché anche qui tutte tante persone che ieri certificavamo come ancora positive non sono più positive virtualmente nel senso che è una settimana che non lo sono più ma insomma sono 1886 in meno rispetto a ieri. Quello invece in terapia intensiva sono 206 che sono 20 meno di ieri e questo però è un dato di davvero giornaliero quotidiano quindi non è cumulativo per cui questo è un dato reale di un giorno solo. Invece quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 381 in meno. Insomma diciamo che i dati sono veramente molto positivi da questo punto di vista quindi vi ho già detto il numero complessivo oggi dei malati attivi. Per quanto riguarda i decessi è soltanto uno meno di ieri, sono 39 nuovi decessi, sono 21 uomini e 18 donne e come sempre qui ci fermiamo un attimo a ricordare i loro cari soprattutto che gli piangono e che naturalmente noi abbracciamo virtualmente per quello che può servire ma insomma un pensiero davvero alle persone, tutte le persone che non ci sono più non soltanto per il Covid anche per altre malattie tutte quante ma insomma oggi parliamo di Covid e a quelli pensiamo. I nuovi decessi erano residenti 5 nella provincia di Piacenza, 6 in quella di Parma, 11 a Reggio Emilia, 4 a Modena, 4 a Bologna di cui nessuno nel Limolese, 3 a Ferrara, 1 a Ravenna, 4 a Forlicesena, 1 a Rimini. Nessun nuovo decesso nei residenti fuori regione. Nel territorio i nuovi casi di positività che vi racconto, sono 69 a Piacenza, vi ho già spiegato il motivo che riguarda i nuovi positivi di Piacenza, stiamo facendo a Piacenza molti tamponi in più, sono malattie tutte, quasi tutte verso la fine, ieri vi ho fatto vedere anche i grafici di pronto soccorso, le persone che si presentano in pronto soccorso, vi ho fatti vedere che riduzione sensibile fortissima che abbiamo avuto in pronto soccorso di nuovi casi di Covid a Piacenza e quindi vi confermo anche oggi questa tendenza. A Parma sono 13 in più, 3.157, a Reggio Emilia sono 47 in più, 4.660, a Modena sono 27 in più, 3.657, a Bologna 63, 4.040, a Imola una in più e in totale sono 376, 3 in più a Ferrara, 921, in Romagna sono 36 complessivamente in più, 1 in più a Ravenna, 11 in più a Forlì, 9 in più a Cesena, fanno 20 nella provincia di Forlì-Cesena e 15 in più a Rimini. I posti lettoattivi aggiuntivi per il Covid-19 sono complessivamente 4.382, sono 21 in meno di ieri quelli ordinari, 3.923 e quelli di terapia intensiva a disposizione sono 459 e sono occupati per meno della metà, come sapete. Per quanto riguarda l'attività dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, oggi sono arrivate 520.000 mascherine chirurgiche dalla Protezione Civile, 80.000 mascherine FFP2, 100 camici chirurgici da una donazione, provenienti campioni, rinofaringee. Il materiale sarà ovviamente distribuito secondo le necessità del servizio sanitario regionale, naturalmente dei 18.000 tamponi che arrivano dalla Protezione Civile nazionale, siamo particolarmente lieti perché ci fanno respirare in termini di approvvigionamento. Oggi abbiamo fatto 2.000 tamponi più di ieri, non sono assolutamente sufficienti, abbiamo dato disposizione di acquisire altre disponibilità di laboratori accreditati perché ci facciano questa attività e contiamo comunque nel cronoprogramma che è stato approvato anche dall'assessorato entro il 18 di maggio di avere una disponibilità complessiva almeno di 10.000 tamponi al giorno. Il personale, del personale abbiamo parlato tutti i giorni, del volontariato, 912 volontari ieri di Protezione Civile, mercoledì 29 aprile, sono stati impegnati, complessivamente sono 36.103 le giornate complessive dedicate dai volontari della Protezione Civile e naturalmente anche da parte di altre onlus, come sempre cito la GESCI, ieri 57 e poi naturalmente anche altre, tante altre associazioni che danno sempre una grandissima mano. Questi mesi sono stati un po' una panacea per le associazioni di volontariato perché questa malattia ha mosso molte coscienze, molte persone, ha motivato tante persone a dare il loro tempo che è la risorsa più preziosa di cui disponiamo, ognuno di noi dispone per aiutare il servizio sanitario, aiutare i professionisti, le persone in una situazione così difficile. Sono molto lieto per tutti quelli che in questi anni lamentavano il fatto che tanti anziani uscivano ovviamente per questioni anagrafiche dal volontariato e pochi giovani entravano. Credo che adesso ci possiamo davvero smentire, questa è una delle notizie più positive che possiamo dare in una condizione in cui le notizie positive, di notizie positive c'è davvero bisogno in un'epidemia come questa. Abbiamo nuovamente la notizia dei drive-thru e dei pre-triage, come purtroppo siamo capaci di dire in inglese e in francese, potremmo chiamare vai attraverso, guida attraverso e la pre-diagnosi, insomma adesso magari impareremo col tempo anche a parlare più in italiano, ma insomma mutuiamo questo da una terminologia sia inglese che francese e quindi è anche normale che ogni tanto facciamo queste affermazioni, capite tutti di cosa si sta trattando, d'altra parte anche il cinema all'aperto, tutti lo chiamiamo drive-in, quello che ci si va con le auto degli anni famosi, anni 60 negli Stati Uniti, insomma, ricorderete anche i film che ci hanno fatto sopra. Abbiamo i 34 punti di pre-triage e le 13 strutture per i tamponi che si fanno attraverso l'auto. Queste sono le notizie della giornata di oggi, ne do altre più generali e quindi su da progressiva riapertura delle attività, lenta ma progressiva, riapertura delle attività normali per le aziende, così comincia con gli interventi chirurgici e c'è l'impegno, vedrete che nei prossimi giorni la Giunta, l'Assessorato e il Presidente usciranno con comunicazioni relative al progresso delle attività e del ripristino delle attività e anche naturalmente più in generale la Regione uscirà o uscita già con comunicato ad hoc, ma insomma molti cantieri che ripartono, cantieri delle imbarcazioni, ma non solo, sono partiti anche cantieri di manutenzione progressiva nelle strade e presto riapriranno anche altre funzioni. Avremo tempo di discutere di dati che riguardano i prossimi giorni naturalmente nei quali progressivamente apriremo anche se lentamente le attività. Oggi abbiamo condiviso tra l'altro magari più tardi vedo anch'io di condividere alcune misure delle scuole materne in Cina che sono assolutamente significative e anche semplici per garantire il distanziamento dei bambini e anche il fatto che imparino a disinfettarsi le mani quindi con dei dispenser fatti in modo tale che somigliano a degli animaletti, a dei topolini con le orecchie come topolino e a delle visiere un po' da supereroe che portano e devo dire che molto spesso le soluzioni a problemi che a noi paiono anche quasi insormontabili sono molto semplici e credo che siano anche davvero gradite ai bambini così come ho visto in altri luoghi dove ci sono dei copricapo con le antenne orizzontali che abituano i bambini a mantenersi in modo tale che non si tocchino le antenne quindi a stare a un metro di distanza gli uni dagli altri. Insomma ci dovremo ovviamente inventare nell'educazione delle persone fino a quando non abbiamo un vaccino o una cura definitiva per questo virus delle abitudini e dei comportamenti da che cominciamo a insegnare ai bambini piccoli e soprattutto per farli ritornare nelle loro occupazioni principali che sono il gioco e i servizi educativi che cominciano decisamente a mancare sia ai bambini soprattutto ai bambini ma anche ai loro genitori adesso che si riaprono praticamente quasi tutti i settori produttivi e quindi abbiamo bisogno di ritornare anche da questo punto di vista alla normalità. Ci dovrebbe aiutare in questo anche il fatto che i bambini non si ammalano o se si ammalano francamente i dati di letteratura ci dimostrano che la malattia viene superata senza neanche accorgercene. Comunque al di là di questo delle valutazioni non voglio scendere nei particolari credo che questi accorgimenti bisognerà imparare a studiarli soprattutto perché non possiamo mica immaginare di mantenere chiusi i servizi educativi per l'infanzia ancora molto a lungo. Questo lo dico perché la politica poi deve ascoltare i comitati scientifici, tecnico-scientifici ma poi alla fine dovrà prendersi la responsabilità di dire che si trovino, oltre a dire che è pericoloso, tutti sappiamo che le riaperture sono pericolose e che costituiscono dei rischi, troviamo anche delle soluzioni perché spesso le soluzioni le abbiamo a portata di mano, basta trovarle, pensarci e magari riusciamo anche più rapidamente di quello che è possibile o che si ritiene possibile in sicurezza provare a dare una vita un po' più normale anche ai bambini cioè al nostro futuro. Già abbiamo fatto tanti danni purtroppo e questo virus ha fatto tanti danni con le persone che rappresentano noi, il nostro passato e anche il nostro presente come le persone anziane, cerchiamo almeno di risparmiare ai bambini un trauma legato al fatto che non possiamo portarli da nessuna parte. Questo è naturalmente un auspicio, è poco più di un'opinione, non siamo certamente noi che possiamo prendere un provvedimento di questo tipo, però è un'idea che io vorrò provare a condividere anche con voi, magari provando a condividere anche queste due fotografie simpatici che voi magari avete visto prima di me. Alla fine un sondaggio che mi è stato riportato da qualcuno di voi, tanti di voi mi fanno avere materiale, ma insomma una persona mi ha fatto avere un sondaggio fatto da una società emiliana, anzi romagnola, sulla predisposizione dei cittadini che riguardava avvenimenti, eventi, fiere, sul fatto che partecipereste, rispettereste il distanziamento, usereste i dispositivi di protezione individuale pur di partecipare a eventi anche pubblici e devo dire che la stragrande maggioranza delle persone risponde certo che sì. Ho sentito naturalmente, e qui chiudo, ho sentito qualcuno che dice ma come non vorrete mettere la mascherina, gli asmatici perché non sarebbero in grado di respirare, non ho mai sentito una tale idiozia, le mascherine, gli asmatici già se le mettono per conto loro, non soltanto in Italia ma nel resto anche del mondo perché spesso gli asmatici sono asmatici perché sono allergici ai pollini e spesso devono preoccuparsi di non far entrare il polline e come è noto il polline è piccolo ma viene assorbito quasi tutto dalle mascherine chirurgiche quindi non sarebbe questo certamente una controindicazione e nei luoghi dove non si riesce a mantenere il distanziamento fisico alle mascherine ahimè ci dovremo abituare che siano alla chiuso o che siano all'aperto come ci ha ricordato il Presidente Bonaccini perché pur di ripartire e pur di riuscire credo che tutti un sacrificio piccolino nel nostro piccolo dovremo pure farlo dopo aver portato le gocce come i colibri adesso bisognerà che ognuno di noi se vuole tornare dopo che ha speso l'incendio a calpestare il terreno bruciato insomma si preoccupi di mettersi anche una protezione per fare in modo per sé e per gli altri ma se uno è anche egoista per sé quantomeno per sé si copra in modo tale da cercare di evitare di riprendersi questa malattia lasciamocela tutta alle spalle vi auguro un buon primo maggio naturalmente con i sacrifici che continueremo a fare anche nella giornata di domani ma insomma è pur sempre una festa per tutti e ci rivediamo sabato pomeriggio per un aggiornamento con i dati da covid-19 buona serata e buona festa